Ciao, sono Michele Patti, faccio Don Giovanni e vi aspetto a tutti a Carlo Felice. Buongiorno a tutti, io sono Patrick Fogel e canto il personaggio di Don Ottavio e sono molto contento di essere in questo teatro e di aspettarvi per la serata di Don Giovanni. Luciano Leoni Leporello, Raffaella Lupinacci Don Elvira, vi invitiamo a vedere questo bellissimo spettacolo al Carlo Felice, Don Giovanni. Non mancate, ciao! Alfia Carimova, Donna Anna e Roberto Maietta, Masetto. Venite a vedere il Don Giovanni al teatro Carlo Felice, vi aspettiamo numerosi. Venite a vedere Don Giovanni al teatro Carlo Felice. Io mi chiamo Lilia Gamberini, sono un soprano, vivo a Genova e interpreto in questa produzione di Don Giovanni il ruolo di Zerlina. È una bellissima produzione, non ve la posso anticipare, altrimenti venite a teatro a vederci. Ricominciate il suono, tu accotti ai ballerini! potessi disponibili. Grazie a tutti i giorni! Allora, su!